Grazie a tutti. Oh, tutti siamo arrivati a 500.000 follower! Oh, questi stanno sempre in vacanza e noi che siamo qua a spezzarci la schiena li supportiamo pure. Ma se sei disoccupato... Ma perché c'entra? Era per dire. E comunque dovremmo provare pure noi a fare gli influencer. Guardate che barca pazzesca. Wow! Ma perché non lo facciamo anche noi? Così, così poi ci possiamo permettere uno yacht! Ma guarda che per comprare uno yacht facendo gli influencer bisogna essere dei geli del marketing. Non è mica una cosa che puoi improvvisare in due giorni. Mio cugino mi ha detto che con le criptovalute si fanno un sacco di soldi. E infatti ha comprato una console di ultima generazione. A parte che si dice criptovalute. Ma poi per fare soldi, così, devi studiare bene i movimenti finanziari, avere un esperto che si occupi del portofolio, fare tutta una serie di progetti che tu ne ha... Trovate! Le botcoin. Guarda queste come volano. La botcoin? Ma sei serio? Bot come barca? Bot. 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 B-O-T. Come il botto che facciamo noi con questa roba. Certo che queste monete fake sono qualcosa di esilarante. Come fanno a pensare che qualcuno possa anche solo cascare in questi meccanismi? Sono veramente una cosa troppo... Prese! Ho comprato tutte quelle che potevo. Oceano! Stiamo arrivando! Io ve l'avevo detto, ragazzi. Investiamo su una moneta sicura. Piscina? Piscina?